E' stata aperta un'inchiesta per una partita dell'Under 15 finita 40-0. E' successo in Sardegna nella partita tra Orosei e la Caletta. Infatti l'Orosi, che era secondo in classifica, per vincere il campionato aveva bisogno di una vittoria con 35 gol. E aveva chiesto una finalissima con la prima per evitare ciò che è accaduto, ovvero che vincesse 40-0. Quindi la procura ha rifiutato la finale dicendo che non si possono cambiare le regole del campionato in corso. Ma dopo aver rifiutato la finalissima, la procura ha aperto un'inchiesta dicendo che la società deve dare spiegazioni per evitare sanzioni pesantissime. Questo perché secondo la procura le scuole calcio sono fatte per insegnare il rispetto, non per queste umiliazioni. Io onestamente credo che ok, la procura possa avere ragione sul fatto delle umiliazioni, anche se io non ci vedo niente di male. Sono una squadra nettamente più forte dell'altra, anche se ok, un po' umiliante lo è. Però prima rifiuti una finalissima, poi apri l'inchiesta, non è normale. Anche perché l'Orosi, che era la seconda squadra in classifica, deve comunque fare il suo compito.